Sono Stefano Macaluso, il curatore della mostra dei Golden Age of Rally, una mostra che nasce dalla collaborazione fra la Fondazione Gino Macaluso e il Museo Nazionale dell'Automobile e una mostra che ci sta particolarmente a cuore perché illustrerà l'epopea dei grandi rally dalla metà degli anni 60 fino ai primi anni 90. Un momento estremamente importante da un punto di vista sportivo, tecnico, sociale, vista l'immensa popolarità che i rally hanno toccato e che si è sviluppata attraverso i decenni. Un periodo forte, di grande passione sportiva, di grandi innovazioni tecniche e con anche dei significati sociali molto profondi. Un fenomeno europeo, italiano che merita di essere ricordato e non solo, per noi lo scopo principale di questa mostra è trasmettere quei valori e quello spirito alle nuove generazioni che per ragioni di età non hanno mai potuto vivere.